Ancora fumata nera con l'ancione alla ricerca last minute di allenatore di esse dopo nomi a raffica, contatti, cenere, pentini dietro fronte che hanno sparigliato le carte alla nuova dirigenza. Paciarella e Ronci nel mirino, il segretario generale Gian Paolo Gorelli. Purtroppo la proprietà si è trovata spiazzata per la decisione presa dal direttore sportivo dove che il 5 settembre aveva firmato un accordo scritto con la società per il nuovo incarico, ha iniziato a lavorare e poi ci siamo trovati a questa brutta sorpresa che tra l'altro però noi come dicevano Ronci e l'altro allenatore la proprietà non è che aveva concluso, si devono vedere il giorno dopo ma non c'era nulla di conclusione per cui vedo fuori luogo l'intervento del mister Ronci e di Zuccarini se non erro, lo vedo un intervento molto fuori luogo. Per quanto riguarda il direttore Paciarella è stato un fulmine al ciel sereno perché la proprietà credeva che portasse avanti in fondo questa sfida, questo progetto e invece c'è dicendo non ci sono le motivazioni ma io credo non è il momento di stare a fare polemiche, le motivazioni era un bilancio che gli avevano messo a disposizione quasi quanto è Lavezzano per cui secondo me sono tutti paraventi e tutte scuse che non sto qui, non sta a me a dirle però credo che la proprietà ci è rimasta male perché aveva deposto su di lui tante speranze e tante cose però il calcio va avanti, queste sono le cose che capitano e la società spera, spera, sta lavorando nel giro di 24 ore, 48 ore di annunciare direttore sportivo e allenatore. Entro domani rassicurano dalla stanza dei bottoni sarà però tutto chiaro con allenatore e direttore sportivo non abruzzesi già individuati top secret dal profilo di livello, novità in arrivo insomma. Tutto questo mentre il settore giovanile è pronto a ripartire con un accordo di massima di gestione congiunta di scuola calcio e appunto settore giovanile. Questo lo staff che dovrebbe essere al lavoro già dalla prossima settimana, tutti tra allenatori e collaboratori Giuseppe D'Aloisio, Antonio Zangolli, Giuseppe Giancristoforo, Alberto Iezzi, Giuseppe Di Pasquale e ancora Roberto Nardone, Michele Sisti, Loris Silveri, Francesco Di Campli, Giuseppe Saltarella, Antonella di Loreto. Dunque c'è chi sposa la causa rossonera nella nuova gestione pensando di mandare avanti un progetto bruscamente interrotto dopo la gestione dei Vincentis.